Anonimo e freddo, si presentava così uno dei reparti più delicati dell'oncologico del Vitofazzi di Lecce, quello di radioterapia, buio, privo di luce naturale, situato nel semi interrato per motivi di protezione, eppure luogo di cura per molti pazienti affetti da patologie tumorali, che ogni giorno vivono un disagio e combattono per la vita. Un reparto era rimesso completamente a nuovo. La paziente oncologica attualmente guarisce oltre il 50%, quindi è logico la sofferenza perché il paziente oncologico, il suo percorso molte volte crea tensione e ansia. Considerando questa situazione di ansia e di tensione dei pazienti e dei familiari, considerando che i locali di radioterapia per questioni radioprotezionistiche devono essere nei semi terrati o sotto terra, in cui sono ambienti freddi, non di luce diretta, si è cercato di realizzare un progetto cosiddetto di umanizzazione dei locali. Proprio per rendere il clima interno al reparto più accogliente e gradevoli, i docenti e gli allievi dell'Istituto Statale d'Arte Pellegrino hanno realizzato alcune opere artistiche che hanno come scenario il mare, nelle sue quattro fasi, in tempesta, agitato, mosso e calmo, una rappresentazione che vuole così raccogliere gli stati d'animo del paziente affetto da patologia tumorale nel percorso di cura che si trova purtroppo ad affrontare. Il reparto di radioterapia di Lecce è un reparto a livello regionale sicuramente, con risultati ottimi, abbiamo due acceleratori lineari, ma abbiamo strumentazione di livello eccezionale anche rispetto ad altre ASL pugliesi e i risultati si vedono, si riescono a conseguire. Io adesso non voglio dare numeri perché potrei essere anche frainteso, però il lavoro è incomiabile.